Arturo Marzano, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto davvero nel nostro piccolo podcast Il Posto delle Parole per condividere un libro necessario ma complesso, potremmo dire anche difficile per l'argomento che tratta. È un argomento che spesse volte, troppo spesso, ci trova schierati. E nello schierarsi a volte il ragionamento non fa una sua strada logica. Arturo Marzano è autore del saccio intitolato Questa terra è nostra da sempre. Israele e Palestina Pubblicato dalla Casa di Triciola Terza nella collana editoriale Fact Checking La storia alla prova dei fatti. Tra l'altro ricordo che questa collana editoriale è curata da Carlo Greppi. Arturo Marzano è professore associato di storia e istituzione dell'Asia all'Università di Pisa. Si occupa di storia del sionismo dello Stato di Israele. Del conflitto israelo-palestinese e dei rapporti tra Europa e Medio Oriente. Tra l'altro ha lavorato in Palestina nell'ambito della cooperazione internazionale e quindi ha vissuto e vive questa storia in atto da una parte e dall'altra. Arturo Marzano, incominciamo proprio la nostra breve conversazione dal titolo di questo saggio. È un titolo che non può non attirare la nostra attenzione. Questa terra è nostra da sempre. Ora, quella parola sempre è una parola che sembra lì messa per attirare i lettori su un titolo di un libro. Però questo titolo va veramente di punto in bianco dentro la storia di Israele e della Palestina, di Israele in particolare. Proprio perché questa terra, si dice, è nostra da sempre. Perché si dice così? Allora, sì, io trovo che c'è un titolo utile per mettere l'accento su due aspetti. Il primo è quello di terra e il secondo è il sempre. Parto con la terra se posso. Questo è un conflitto, a mio avviso, di natura prettamente politica, per cui vede confrontarsi, vede opporsi tuttora due nazionalismi. Il sionismo, c'è il nazionismo ebraico, e il nazionismo arabo-palestinese, che tra fine 1800 e prima del 1900 si strutturano e ambiscono a creare uno stato-nazione per la nazione ebraica da un lato e quella arabo-palestinese dall'altra, sulla stessa terra. Sostanzialmente il conflitto continua a rimanere su quei binari, cioè un conflitto tra due nazionalismi e con la differenza che il sionismo ha ottenuto il suo risultato, cioè Israele, mentre il nazionismo arabo-palestinese no, non ancora, diciamo, perché io credo che quello sia il passaggio necessario per arrivare ad una soluzione, cioè il riconoscimento dei diritti alla determinazione del popolo-palestinese e quindi uno stato-nazione per il popolo-palestinese, poi da capire come definare. Il sempre rimanda a narrazioni che io a mio avviso sono molto problematiche, perché il sempre rimanda da un lato a questa idea della atavicità del conflitto, come se si dovesse risalire indietro addirittura ai rapporti fra Esacco e Ismaele, leggendo in chiave religioso un conflitto che non è affatto religioso ma di natura politica. Quindi questa eternità nel passato e quindi anche eternità nel futuro, come se sostanzialmente non ci fossero speranze e sempre e comunque sarà così. Cosa che io invece contesto, in molti altri più importanti di me, perché tutti i conflitti della storia iniziano e hanno una fine. E poi sempre rimanda a narrazioni che soprattutto la parte israeliana vanno a pescare nei livelli del Soromone, che chiaramente sono importanti dal punto di vista identitario e culturale, ma non possono essere una base politica di reindicazione. Questo è un conflitto che va datato nell'età contemporanea, è un conflitto che parte nel momento in cui alcuni concetti vengono creati e diffusi, quello di Nazione, post-evoluzione francese, leggendo Comunità in chiave politica. In chiave politica però il concetto di inersione, Arturo Marzano, quel sempre mi ha ricordato che cosa? Mi ha ricordato da quando è nato lo Stato di Israele, no? Se ne stavano andando i personaggi che avevano gestito quel lembo di terra, erano inglesi, se non ricordo male, e forse lo stesso giorno in cui gli inglesi se ne andavano ed era nato lo Stato o lo Stato di Israele, lo stesso giorno ci furono già colpi di fucile, spari. Ora, ed è lì, no, che la parola sempre va a cozzare. In sostanza, questa guerra, questo conflitto religioso, politico, economico, e via di questo passo, nasce nel momento stesso in cui è nato Israele. Allora, in realtà, diciamo, lo precede. E, diciamo, è verissimo, gli inglesi lasciano la Palestina, dichiarano qualche mese prima di lasciarla alla mezzanotte del 15 maggio, che è la notte fra il venerdì e il sabato. E David Ben-Gurion, leader della comunità ebraica cittadini sta, e futuro, poi, primo ministro per Israele, nel pomeriggio del venerdì, il 14 maggio, legge la dedicazione di dipendenza e proclama l'indipendenza di Israele. È vero che poi, da quel momento in poi, la guerra fa uno scatto, perché diventa regionale con il conflitto fra Israele e paesi arabi. Ma il conflitto c'è da prima perché nei mesi che vanno tra il novembre del 47 e il maggio del 48, nel 1947, le Nazioni Unite adottano le risoluzioni con cui la Palestina britannica verrà divisa in tre pezzi, uno molto piccolo, i Lodi Santi, e poi lo Stato ebraico, lo Stato arabo, e da fine novembre, quando appunto, nazionalmente il 29 novembre, adottano questa risoluzione, scopre un conflitto molto ampio tra comunità araba e comunità ebraica dentro la Palestina, con scontri, con guerra contro civili, con massacri, con le prime espulsioni dell'elaborazione araba della Palestina, e comunque non è quello ancora l'inizio perché l'inizio va, bisogna tornare alla fine dell'Ottocento, quando inizia l'immigrazione ebraico-sionista e quindi l'immigrazione nuova di tipo politico rispetto a quella che per secoli ha visto famiglie ebree dalla diaspora trasferirsi in quella che è la Palestina ottomana ma è prima la Palestina occupata da tanti altri attori e quindi il conflitto inizia fino ad Ottocento con l'incontro barra scontro perché non è solo conflittuale il rapporto fra ebrei ed arabi, tra i ebrei sionisti e gli europei sinesi è anche un confronto di dialogo, di collaborazione, ma anche molto di scontro e quindi ecco, se vogliamo risalire all'inizio possiamo dotarlo all'inizio dell'Ottocento. Quando è nato poi proprio verso la fine dell'Ottocento il termine sionismo ed è un termine anche qui Arturo Marzano che ci pone a volte in una confusione perché io penso che non tutti sappiamo che cosa significa questa definizione. Certo, a forza di ragionare su questo tema ci si polarizza anche oggi come oggi spesse volte sentiamo parlare di sionismo nei talk show sentiamo anche nelle conversazioni tra amici colleghi di lavoro e così via però spesse volte il termine viene confuso. Viene citato tra l'altro in questo sancio una frase dello scrittore Abraham Yoshua che dice che alla base dello sionismo c'era solamente il mirare solamente a creare uno stato quindi il sionismo non è una ideologia ma una piattaforma di ideologie differenti e contraddittorie. Ora questo lo scriveva Yoshua però com'è cambiato il sionismo ad oggi e cosa è diventato? Mi sono d'accordo di Sionismo quando parlo di piattaforma è così è per questo che è molto più complesso che incasellare il sionismo dentro un colonismo di insediamento lo è anche all'interno della piattaforma dei sionismi c'è un chiaro modello coloniale e ci sono pratiche coloniali tanto allora quanto oggi in maniera molto molto chiara ma non è soltanto questo dentro i sionismi sono varie facettature varie posizioni ciò che accomuna è l'idea di una patria ebraica cioè di un luogo che possa essere culturalmente politicamente identitariamente rilevante per la diaspora se poi appunto debba arrivare ad essere uno stato unico un stato binazionale deve esserci uno stato e la diaspora debba trasferirsi o meno questa è una probabilità di opinioni negli ultimi diciamo decenni con una accelerazione direi dal 2009 quando Netanyahu torna al governo quello che si assiste è all'interno dell'ampia patria formazionista la presenza sempre più rilevante di un sionismo che si definisce in chiave etno-religiosa e che in qualche modo è rappresentato poi dai noti ormai ministri del governo Netanyahu appunto il nomino benedì Ross Motrich che si richiamano a idee di sionismo religioso di nazional religioso che è una corrente all'interno del sionismo per quanto minoritaria esiste all'interno del sionismo tuttora reale con uno spaccato di società politica italiana che crede ancora in uno stato ebraico ma che crede in una fine dell'occupazione che crede nei diritti pieni dei palestinesi crede in tante altre cose è che in questo momento quello che sta tirando il governo Netanyahu nonostante sia un parte minoritaria rispetto all'Ikud di Netanyahu è questa tendenza che fra quella dei coloni è quella che vuole rinsediarsi a Gaza e quello che vuole rinsediarsi a Gaza spero non sia andata via la linea insieme con Arturo Marzano speriamo di risentire di nuovo la sua voce sono qua sono qui sono qui sono qui sono qui non volevo essere troppo lungo eccoci qua temevamo la linea la linea telefonica non fosse nostra nostra alleata ma a proposito di alleati oggi come oggi le alleanze in Medio Oriente sono quanto mai forse sono sempre state molto liquide e oggi la parola alleanza non è nemmeno più una parola liquida è una parola inesistente o quantomeno noi non riusciamo a percepirla alla luce dei fatti di quello che succede questa guerra reale che tra l'altro ci pone di fronte a migliaia e migliaia di vittime la parola alleanza in che cosa consiste oggi Arturo Marzano? Ma io se dovessi dare un aggettivo per definire direi strumentale ogni attore medio orientale ha propri interessi e si allea con altri attori statuali e non statuali per interessi diciamo nazionali interni e regionali qui c'è un elemento importante che è questa rivalità di lungo periodo fra Iran e Arabia Saudita sono due giganti dal punto di vista petrolifero dal punto di vista economico e provano a essere anche dal punto di vista politico ed è questa rivalità crescente che ha visto altri attori non statuali oltre che statuali poi schierarsi a seconda in questo momento uno degli assi più rilevanti è questa partnership tra Israele e Arabia Saudita in chiave anti-iraniana e questo ha fatto dire frammentamente che la questione della palestinese venisse da Israele e Arabia Saudita messa un po' nell'angolo perché l'interesse principale dei Sauditi quindi anche di altri attori marginali ma tutta virgola sia marginale ma sono politicamente meno rilevanti ma economicamente molto rilevanti come Bahreini e Emirati Arabi che appunto hanno fatto la Corri di Abramo nel 2020 e intorno a questo asse Israele Saudita ha ruotato un po' la politica di entrambi nell'ultimo decennio il dramma del 7 ottobre e quindi questo attentato terroristico terribile è stato voluto da Hamas per provare a staccare questo asse tirando anche dentro l'Iran io questo lo dico spesso posso chiaramente sbagliarmi ma in questo caso non è l'Iran l'attore chiave è Hamas l'attore chiave che si è appoggiato all'Iran ma per suo interesse cioè per provare a forzare la mano drammaticamente per cambiare la situazione dei rapporti tra appunto Palestina e Israele tra Arenda Saudita e Israele e questo mi sembra un po' una delle chiavi per comprendere l'ultimo anno e mezzo l'ultimo anno e mezzo ma è importante cercare di capire avere la curiosità di entrare in questa in questa storia sicuramente complessa però Arturo Marzano mentre stava illustrando la risposta sono andato a rivedere una delle varie sottolineature quando si parla per esempio della mancanza di coesione da parte dei paesi arabi in partito dal modo per esempio della Palestina e anche questa mancanza di coesione al potere è un'occasione anche persa per arrivare a costruire una pace più veritiera perché guardiamo spesse volte solamente questo aspetto dal punto di vista israeliano e la questione araba nei confronti della costruzione della pace quanto conta per la sua non dico incapacità a costruire ma forse proprio ritorno alla parola quella mancanza di coesione perché gli attori sono veramente tanti si conta moltissimo e io spesso dico questo che il conflitto della palestinese è composto valletto per essere compreso di più sotto tre cerchi concentrici quello interno e cioè il conflitto che deve appunto oppure come dicevo prima due nazionalismi sionismo e quello arabo palestinese attorno ad esso un secondo cerchio concentrico che è il Medio Oriente e quindi come gli attori si muovono e poi il terzo cerchio internazionale dall'impegno di Britannico ottomano passando per USA URSA arrivando adesso alle Nazioni Unite agli Stati Uniti e gli attori internazionali il secondo cerchio quindi è molto importante perché interagisce pienamente col primo qui una delle tante vulgate che ruota attorno al conflitto è quella della fratellanza araba del sostegno della causa palestinese da parte di lettori medievidentali questo non è affatto vero questo non c'è mai stato dal 48 in poi gli attori regionali quindi paesi arabi Iran e Turchia si sono relazionati a Israele ai palestini al conflitto per questioni di interesse nazionale lo dicevo prima perché l'abba sudita l'interesse nazionale prioritario per Iad era emergere sull'Iran e quindi hanno piegato la causa palestinese a questo ma questo è già avvenuto nel 47 48 nel 48 la Giordania che allora era una potenza militare nell'area decide di accordarsi con Israele per spartirsi la palestina britannica per ottenere Amman per ottenere la Giordania perché è una terra molto più ricca della Giordania una terra culturalmente imprenditorialmente rilevante con le città Nablus Ebron Ramallah oltreggiamente chiusa la Mest su cui appunto l'accordo non si trova tra Israele e la Giordania e quindi c'è poi una guerra molto forte che porta alla spaccatura ma questo è solo uno dei tanti esempi nel 79 l'Egitto prova a inserire negli accordi di pace con Israele la questione palestinese ma davanti alla resistenza israeliana l'Egitto molla non è qui un giudizio morale che va dato sta dato un interesse chiaro che è prendersi il Sinai e davanti alla necessità di farlo sacrifica la casa palestinese non c'è una questione morale è una questione di scelte di statuali di politica estera ma questo dimostra ancora una volta come gli attori medio orientali subordino la Palestina ai loro interessi e questo vuol dire che i presidenti sono molto deboli perché non avendo in realtà un sostegno forte sono deboli rispetto a Israele che invece è dal 48 in poi sempre in maniera più crescente una potenza regionale e per quanto riguarda Israele Arturo Marzano il carattere di stato democratico si attribuiva una forte presenza democratica allo stato di Israele poi nel corso degli anni sempre di più è diventato più forte il carattere ebraico dello stato di Israele e questo quanto ha nuociuto e nuoce tuttora allora Israele nel 48 quando nasce dice espressamente nella legazione di dipendenza che ambisce ad essere contemporaneamente rifugio per gli ebrei e quindi stato ebraico ma anche garanzie di diritti uguali per tutti i suoi cittadini e quindi stato democratico questa è una questione molto complicata quanto anche teoricamente fosse possibile poter avere un doppio binario in cui realmente si potesse sostenere pienamente il suo carattere ebraico e contemporaneamente essere democratico Astav Ghanem che è un sociologo palestinese di Israele usa un'espressione molto secondo me molto utile per capire Ghanem dice Israele è stato democratico per gli ebrei ed ebraico per i palestinesi per gli arabi di Israele e quindi segnando che già dall'inizio in realtà il carattere ebraico prevare soccorso democratico una stagione in cui la tentativo di bilanciare c'è stato e gli anni 90 che sono anche gli anni di Osolo gli anni dell'accordo di pace in cui comunque c'è un po' più di leggerezza e un po' più di speranza di pace però quanto poi più il conflitto si è approfondito tanto più ha prevalso dentro Israele lo dicevo prima con il governo di Netanyahu questa torsione etronazionalista che è culminata nel 2018 con la famosissima legge che dichiara Israele stato nazione del popolo ebraico e che fondamentalmente dice benissimo Israele ha tentato di essere democratico e ebraico fino ad allora fino ad oggi ma d'oggi in poi è pienamente stato ebraico e quindi l'arabo come lingua viene scalata da lingua ufficiale a lingua con status particolare la legge dice espressamente che la determinazione è soltanto per gli ebrei e non per gli arabi nello spazio della regione mediterranea e quindi fondamentalmente Israele ha progressivamente scelto di diminuire la sua apertura democratica e le ultime le ultime leggi anche dal punto di vista soltanto ebraico cioè il tentativo giudiziario come la forza di forma giudiziaria di Netanyahu era un'ulteriore torzione autoritaria contro cui una fetta amplissima di collaborazione ebraico-eserciana si è scagliata di subordinare la magistratura al potere esecutivo e quindi con una progressiva diminuzione dell'esposto democratico e questo è un trend che a cui ci assiste e che osservatori esterni in livello di cittare Anna Foa scritto un bellissimo libro di Israele è un dato molto preoccupante è un dato molto preoccupante quindi dobbiamo pensare che la parola pace nonostante tutto nonostante tutto debba prevalere è un accordo un accordo è necessario ricordiamo gli accordi di Camdevi gli accordi che ha citato poco fa gli accordi di Abramo però vorrei soffermarmi Arturo Marzano proprio su questa definizione noi ci chiamiamo il posto delle parole spesse volte amiamo inciamparci nelle parole nelle definizioni non è un errore chiamare un accordo di pace accordo di Abramo perché già già nel linguaggio stesso c'è una posizione preminente rispetto alle altre sì sì io sono molto critico di quegli accordi che sono stati evoluti fortemente dalla presidenza Trump e il problema fondamentale di quegli accordi è stato l'abbandono da parte di Emirati Arabi e di Bahrain del sostegno ai palestinesi l'accordo di Abramo vanno letti in parallelo con la proposta di pace del 2002 il cosiddetto piano saudita quel piano del 2002 diceva fondamentalmente questo Israele se tu fermi l'occupazione ti ritiri e concedi uno stato palestinese noi tutti in blocco paesi arabi ti riconosciamo e giriamo pagina impostiamo un Medio Oriente nuovo con relazioni diplomatiche politiche culturali eccetera questo è diventato invece nel 2020 un riconoscimento di accordo con Israele senza però più chiedere nulla in cambio cioè senza chiedere quell'elemento chiave che è la fine dell'occupazione militare israeliana su Gaza c'è Giordania e Giuseppe Mest e quindi è un accordo assolutamente sbilanciato il nome è stato scelto per dare una solennità ritenendo che Avraham Ibrahim patriarca a cui in età tutte e tre le religioni fanno riferimento ma in realtà è un accordo in cui Avraham prevarsi Ibrahim se dovessimo dare sciogliere perché sostanzialmente Israele ha avuto ciò che voleva senza che in cambio in un accordo come dire le negoziazioni sono fatte così e senza che in cambio si arrivasse a quell'elemento fondamentale chiave su cui torno perché senza la fine dell'occupazione non è possibile alcuna pace nel contesto della Palestina Arturo Marzano autore del saggio questa terra è nostra da sempre Israele Palestina il libro è pubblicato dall'editore La Terza ma prima di salutarci invece qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? a questo mio? Sì ma io direi il libro di Anna Foa il saggio di Israele lo dico con rispetto perché Anna Foa è un'eccellente bravissima storica ma è anche una persona che stimo molto a cui voglio molto bene siamo amici è un libro molto coraggioso un libro importante perché è un libro in cui fondamentalmente una persona così importante del contesto ebraico italiano Anna Foa dice attenzione perché se Israele non cambia strategia va verso la fine e questo per chi vuole bene Israele perché io mi trovo a questi è terribile ma perché Israele si salvi come io anche scrivo e sono convinto che Anna condivide l'unico modo è che anche la Palestina sia saldata non è possibile una vittoria israeliana nella sconfitta palestinese come non è possibile una vittoria palestinese nella sconfitta israeliana i due devono essere insieme vincitori perché solo se Israele e Palestina entrambi prosperano ci può essere una pace stabile grazie grazie davvero Arturo Marzano e buona giornata grazie per avermi invito un molto piacere grazie mille